Buonasera a tutti, mi scuso per ritardo perché pensavo che io volevo chiedere, volevo fare questa accoglie, questa occasione per spiegare, per dare a leggere a tutti l'iniziativa che abbiamo preso, in realtà nasce da, come unione comitati, diciamo, l'idea nasce da un documento dell'associazione, è stata nuova, e qui rappresento l'iscrizione dedicata al territorio dei suoi importanti di valori in una nuova città del 1884, perché l'Avena dipende alla sua politica nel 1884, perché vengono a 26 novembre, per portare il valore della città nuova, la cultura in questa terra ricca di storia, che legnale, che legnale, che legnale, che legnale, che legnale stella con la valore. Ora, il messaggio purtroppo è mai lungo, perché noi rivolgiremo, per portare la città nuova, il valore della città, su un territorio di storia di cultura, che allora da invidiare a Roma, anche perché è sempre stata oggi alla porta di Roma, siamo oggi a in questo territorio rovinato da questi lazzaloni allora io vorrei il documento questo questa lettera la rappresenta abbastanza io ti vorrei siccome non ho l'autodistuzione trovo corretto che io le leggo il documento magico giusto? che è più o meno la stessa cosa questa è roba mia non voglio essere tacciato non è Luca sì è vero che è Luca però abbiate pazienza e noi abbiamo con noi io sono della scuola italiana nostra o il Papa Nelotto ci sono vatti 4 carti voglio dire abbiamo avuto l'ambizione di immaginare il Schiller al Presidente della Repubblica al Presidente della Repubblica lui deve far capire certe cose giusto? quindi mi ha avuto la pazienza però secondo me poi giudicaremo se ne vale a un momento con il termine di doai romano perché bisogna capire che è un'altra scuola italiana che è un signore no? noi un'unione ad Ostia da tempo vale a dire da quanto circa 30 anni fa appunto veniamo dal sito del Peroselli Peroselli è stato il primo che ha fatto che il Vitorale non è la nostra ma per Ostia è il delta del Tepe per il territorio immaginando a centro il Tepe immaginando che siamo sul ponte del Gra siamo sul Gra bene appunto il ponte del Quattro siamo lì c'è il Tepe ma a nord arriva fino a Macarese se guardate il delta a sud fino a Capoporta questo è il territorio di circa 30.000 per 17.500 quindi per due terzi quasi 18.000 è un territorio un'area protetta nazionale che poi hanno chiamato riserva statale migliorare dal 1929 marzo del 96 questo area protetta da allora è rimasta un tipo di più perché come sempre ma in Italia il territorio definito area protetta lo Stato la legge per 9.4 di un'area protetta che obbliga lo Stato ad avere sei mesi di tempo per farlo in gestione cioè per indicare come deve essere gestito il territorio perché si fa l'area protetta per cercare di cambiare la regolazione di attraverso l'automobile allora buon avanti se no tra un piccolo proprio un attimo quindi un pasto territorio formato dalle piene del Tepe che abbraccia tutta l'area della persona filiale e che inizia la ponte di via si allaglia avendo al centro il Tepe e le sue fuci a subito fino a Capoponta a morire fino a Passo Scuro per circa 30.000 esteri un'area dove vivono attualmente 300.000 abitanti 70.000 abitanti vicini 200.000 siamo oltre 200.000 abitanti comunità media però questa è la realtà di Stato il Roma non sa che la gente comunizza che non superiamo i vecchi anni quindi siamo giovanissimi come a casa i ragazzi sono già che faccio un urbanista ma andiamo contro con te allora ci sono i giovani vuol dire che c'è bisogno di scuole c'è bisogno di servizi che invece ha il centro di romano in serra e infatti c'è la libera arrivare a mia vasta o dico perché sarebbe molto bisogno di tornare per i banchi a scuola ne fanno libera sto sempre ne qua nella casa io vorrei star nel mio vabbè citazione la nostra associazione Nava che nel 94 le viste delle azioni individuali della compilità di nostra proprio per continuare a portare sui individuali umani capire che su questo terzo il dibattito il valore della città nuova ha promosso e realizzato in questo pentedio una serie di un euro iniziativa insomma noi abbiamo fatto impiettare i metodi una serie di cose che adesso quindi si parla ci sono poi allora l'irrano umano grazie alla politica della locativa della malcomagnola è ritornato di nuovo abitabile questo è un abitato che non occupava perché se no c'è la malaria è un posto pensate se andate a Rossiantiga vicino al castello c'è una strada si chiama via capogherami leggermente via delle memorie per andare verso il c'è un cerco di marmo molto che io non si legge ma se uno fa attenzione legge il tribunale dei primori quei ceppoli stavano praticamente all'altezza della politica dove iniziava la politica perché se uno era talmente malatico insomma che se uno superava diciamo indenne questo passuggiano voleva dire che non ha fatto niente pensate che pensate che che posto era dentro l'altro la bocca della ventata era ancora una bocca della ventata grazie allora con un rapporto adesso questo territorio che è iniziato nel novecento e poi eseguito fino agli anni sessanta hanno creato la ricordata che è diciamo avuto un colpo definitivo la ricordata con la produzione di queste importanti infrastrutture del territorio ha subito una veloce e devastante urbanizzazione perché il PRG del sessantanue pur avendo messoci l'aeroponto ha più vicino queste lezioni ha lasciato un mezzo il territorio di l'Italia gli lasci un mezzo di spazio quindi chiaramente tutta è stata devastata e non a caso su questo territorio c'è arrivato il dieci per cento dell'ambulismo nazionale tutta ossia così di quadro ma capisci perché è stato massacrato massacrato perché di fronte a un'infrastruttura che comincia a ricevere dieci dici mila persone che lavorano in tre giorni e basta il territorio perché tutti la casa stavano quindi chiaro certo allora in base di quel l'ambulismo ma che era in base di che guarda caso si è inseriato nelle aree marginali nelle aree a più basso valore quindi nelle zone più basse della pianifica degli stagni andiamo all'isola sarga cioè è stato pieno di sono massica una devastazione a cui le istituzioni hanno incluso no no tutte e due non mi ha fregato niente a nessuno che devo fare giusto per esempio io cito una cosa che mi fa un testimone quando nel 92 con la viaggia di prostituzione 14 diventa comune di giugno isola sarga in un anno accumulando 3.500 casi di abusi di nel 92 93 tant'è vero che erano giornali di spagnia che non facevano interpellanza eravano io solite 20 30 ciò nonostante diciamo bloccando questa cosa e solo per dire quanto le cose poi non brutamente non governate diventano devastate quindi da quella tese noi in atto in via se è controllato allora il comune di Roma ha incominciato a poveri in meglio solo verso la fine degli anni 70 con il canascere diciamo che abbiamo una fase di spisanamento con il conseguente con l'edilizio che però che ha permesso di portare acqua luci estranei servizi primari a tutta questa immensa periferia poi bellissimo ricordo la grande battaglia povera non si poteva dire così spontaneamente in aiuto a quest'opera di repubb che non è il territorio lavorato scusate io penso che è una cosa storica che va raccontata perché deve questa è cultura che il territorio ha perso una battaglia che non è non nessuno non capisce non si spiega perché oggi è così in questa opera di recupero del territorio e per avviare una corretta urbanizzazione della romagna delle abitazioni che nel tempo è sempre resciuta a ritmo di è giunta anche la cultura per proteggere la cultura ambientale è una battaglia che non è ma di un insomma per i dovi noi in quattro anni siamo riusciti a ottenere valori questo per dire che le minoranze non è quello che perdono sempre le minoranze delle minoranze è il questo per non coraggio allora valori che iniziamo dal tevere è un po' vincito ai vari valori dell'anzia e in spagna tevere in questo scenario di straordinario di un urbanistico c'è una cosa assolutamente no non comune di danno c'è da una parte una grande qualità ambientale intendendo valori storici culturali eserogistici accompagnata e dall'altra la più importante infrastruttura quindi c'è un contrasto tra un'esigenza di vivere il territorio urbanisticamente in modo moderno no e dall'altra una volontà di preservare un territorio invece che aveva i valori funzionari no con 300 mil che da guardate negli anni 60 ho praticamente 300 mil io quando venivo a scuola qui al bicicletta partivo da un centina erano quattro canti c'era la bicicletta davanti a dare punti a ritrovare l'olimpia che si sa pregavano scuro per dire questo è l'età è da un sì ma erano 40 anni era il quattro secoli fa non parli ne allora scusate e che erano avanti eh anche se erano avanti anche il più cinquattico io guarda io non ho una foto no tu vuoi che ho 62 anni c'ho problema allora questo è avevo sicuramente cinquattanti di allora questa continua disattenzione di Roma vi spiego tanto cerco di spiegare cerchiamo di spiegare di Roma capitolina che potrebbe essere confermata con altri esempi le posso fare cinquattro l'altro esempio ha fatto che nel nostro territorio siano insediate numerose diciamo lì dell'evità che piano piano però si 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 sono consolidati io lo spiego così che non è una mafia ma questi sono paragoni se sono messi non ha toccati mai anche perché dopo scusate la premessa che ho detto prima noi perché non ce l'abbiamo fatto questo documento a sentenza perché noi ci impediamo le distituzioni dichiarandoci marmafiosi se so che c'è quale un'altra volta la bocca la gattina la gattina e di che c'è il suo c'è morto vabbè chiudi la disinventa tutta lì questo c'hanno fatto invece di cercare di capire chi ha che vuole da questa minima chiaro e per cui c'è una relazione quindi proprio il territorio che da una parte lo Stato dichiare la protetta dall'altra e poi ci dice che siete mafiosi noi abbiamo subito noi abbiamo sentito io devo dire una cosa ci sono dei corrotti ci sono anche dei produttori in questo territorio c'è una grossa parte di produzione da parte di una parte poi mi sento la sedicola ma io da uno come me che si è battuto se me mi dicono che vado giro da professionista mi dicono che siamo tutti nel caso l'ho qui scusate se non pensi che nessuno abbia mai detto che tutta ostia per come dire tutta una mafiosa tutta mafiosa se vedi che sui mass media parla spagli non va non dico posto questa cosa non dico niente a nessuno ma mai Giacomenti mai lui mai Maria Laura parla solo spagli per metto per gli strozzi dei passano pensato che oggi siamo comunque io su questo ve lo dico da imprenditore che mi dovrebbe essere tacciata se dovessero mai dire che qua ci sono appunto i genitori corrupti che obiettivamente se ci sono dei corrupti ci sono anche dei produttori infatti io sono tra quelli che è molto felice da soltanto di una cosa che in questo territorio non si dà la l'opera insomma perché fino ad oggi la classe politica è sempre voltata legalmente dall'altra parte quindi io non penso che sia una questione di se questi tutti quanti mafiosi soltanto perché dicono che qua c'è un problema di mafia meno male che viene risolto nel lei nel franco nel nessun altro che ha la presenza possibile ma non pensi che io sono a me come le fate è un ulteriore violenza che mi ha fatto io ho violenza ma facciamo giurare la parte allora diciamo questo perché chiediamo oggi rispetto delle nostre considerazioni che qui non ci è stato sempre legato perché per dieci anni ventici anni fa ha lottato per il referendum non c'è comune che l'ha corso no però che ha voluto ribadire una volontà di essere città giusto obbene se questa è la situazione e così straordinariamente grave in cui noi di Ossia siamo arrivati non possiamo a certo accontentarci di qualche marcia di attività o di manifestazioni simili ma chiediamo alle situazioni interventi adeguati a questa situazione ed è proprio per questo punto che vogliamo intervenire perché stiamo vedendo vogliamo insieme rivedersi di film che abbiamo già qui non visto già tante volte che non vengono fermate e se non vengono per venerci portando di nuova la situazione di risufficanza e risubbabilità in particolare noi suggeriamo quattro punti allora anzitutto la gestione delle schiacce diciamo con una frescaccia perché io faccio un mestiere questo le mie informazioni che ho con nessuno al comune lavora per sistemare il cua per cambiare la realtà di questa di spiaggia quindi zitti zitti noi arriviamo a febbraio a febbraio e se lo fa e vi rogano il lavoro chiaro all'inizio non è ancora arrivato ma abbiamo parlato molto a profondità di questa scusa che roenia per me al comune non ci lavora nessuno questa è la classica e me ne assumo la stuzione a dire è la classica situazione per cui arriviamo a febbraio non si è fatto niente e tocca a portare giusto ora seconda cosa pubblica noi abbiamo un'altra questo è un'altra tecnica lo devo dire finalmente il bacino del terreno ha scoperto che ci avarciamo allora capito questa cosa ci ha fatto una mappa una mappa che dichiara le zone di allagamento cambia se blocca tutto come al solito se mette il velico non si danno i soldati allora che io oggi a chi da medici del malato hai scoperto l'acqua calda noi abbiamo fatto distanza per dire che noi ci ammaghiamo lo sapevamo già siamo in politica la politica è un territorio lo dico citazione singarelli in cui le altre non vanno a entrare in mare quindi il nuovo pacco lo sapevamo già che fate per migliorare la situazione su 130 anni la punizione di farla sarebbe pure ora la diventa c'era ma o no che questa è una cosa che mi dico occhio a lozette ma dentro la cosa è che tutti si sono l'aria e ci ha detto un quel peggio che di tutte le piogge che so che la verità non c'era più una goccia se ci arriva non va poi l'ultima cosa un'altra idea tipicamente questa è tipica della situazione ce l'abbiamo inventato noi lo chiamiamo lo schema il piano della mobilità se voglio oggi uno degli inquisiti come noi chiediamo in sostanza di creare di promuovere un nuovo piano scena come allora fu il piano che portava acqua luce estate noi chiediamo di fare un piano di mobilità perché fino a che le periferie non abbiamo un piano di mobilità pubblica noi saremo sempre per le periferie ossia se vedete la mobilità pensateci un attimo è quella che manche negli anni sessanta a palocco per dire da internet e ossia un'ora un'ora io prendo e arrivo arrivo a Napoli con il treno arrivo a Milano con l'aereo arrivo ad Angeli con l'aereo noi un'ora andate invernito è stato fatto un rassanto proprio a gennaio se vi assetto scusate si chiama cambiare qualche centinaio di merita cosa noi abbiamo bisogno noi siamo la seconda città del Lazio noi abbiamo bisogno di un piano di mobilità pubblica ve lo dico che io sono responsabile del PRG del Tere dell'Electorale della Repubblica della Repubblica la mobilità è una cosa che mi hanno tacciato non ho potuto fare il mio mandato è fare il piano e basta questo è importante perché noi contrariamente a quello che si pensa non andiamo a intingire le casse è un piano che in tutta Europa si fa in questo mondo cioè nel senso che il pubblico il politico quello eletto decide se passare a destra o a sinistra vicino a casa della signora o a casa di ameneo perché più o meno si impara decidiamo questa dopo di che io individuate le tratte ci sono in tutta Europa migliaia di imprenditori che vogliono fare questi servizi attamente diciamo social chiaro perché è un modo di investire i conti per tanti servizi alla gente in Europa per esempio stanno facendo degli ottimi in cui il pubblico di internet perché in Italia non c'è delle nostre cose io ero normale di qua perché se le opere pubbliche paga quanta l'unica noi poi con la scusa del massimo l'impasso grandi sui cittadini noi se vincono negli altri 30% di quello che è stato stampito in Potezio e poi con le varianti di riserva e compagnia a me alla fine quanto è costata sto per al 200% se va bene se non 300% rispetto a quello che la stanno allora quindi invece con il project finanzi questi giochetti finiscono no? i fondi giustamente o 2 di 2 ne fa 4 non 5 6 6 diventa 2 e 2 per 2 quindi io chiedo una visione questa cosa che non è solo una cosa progettuale è una veramente un fatto di civiltà immaginate se noi avessimo un sistema di mobilità pubblica non dico tanto di mezzo europeo senza andare mediamente non puoi andare al top pensate quanti soldi pensate solo alle 35.000 persone che ogni giorno devono andare all'aeroporto sul 3 che devono 2 rettolini sono 8 6 di riparto devono andare all'aeroporto se l'aeroporto cresce come immediatamente non ci abbiamo purtroppo perché non ci mai diamo niente perché visto non facciamo niente che l'aeroporto sta crescendo di 150 a 200 mila passeggeri all'unico significa che da 36 migliori d'anno scorta arriviamo a 40 quest'anno 45 a 42 42 delle passeggeri significa che se crescono i passeggeri crescono anche i servizi crescono gli agenti che va prima attiva il lavoro è produzione è lavoro è economia noi sta gente la mangiamo all'aeroporto sempre con la macchina i parcheggi fatti per l'aeroporto servono dei dipendenti non che passeggeri che poi dopo li danni cosa noi ci vediamo ci ammazzano da soli prendono invece io sono famoso per la monologa io va bene qualunque altro sistema ci promuliamo la mozzoraria ma non per la questione di amore la bombardia ma la conoscevo ma perché in quel macello che è orsia stagni dove c'è una casa qua una casa là abusiva l'unico modo per portare un servizio pubblico lo metti contrambo lo passi se metti invece un pilone di 30 25 metri fuori un modo di passaggio cioè quindi non è un modo è una necessità non è più di questo è una necessità quindi questo è il concetto di questa lettera che noi poi abbiamo fatto ancora con il mio per un madre da un altro dovrebbe passare vi chiamo prima perché è giusto per le nostre istituzioni per presentare pubblica giù qualcuno ha suggerito che mi sono dimenticato il gruppo del ministro dei beni culturali di Franceschini lo mettiamo quello ci aggiungiamo c'è un problema ce l'è per tutti pure anche il sindaco se è decaduto mettiamo il sindaco se è decaduto ci importa nulla però secondo me io mi spiagge se ci fosse qui adesso i media mi faccio cioè loro hanno la responsabilità del fango che ci portano su 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 tutti i territori chi è oh sono la domanda chi parla di chi è ma io non ando perché in Sallacano in Sallacano sapendo che noi sappiamo la massima quota nostra meno è circa 2.000 che sta a stagli di ostia ed è è molto concentrata non è un grande problema perché la linea zero vi passa sotto la teoria via Agostino 15 quella strada che sta tra l'albero quella è a livelletta zero la livelletta zero di offienze tutto il resto siamo a mezzo metro mediamente perché in questo anno 19 siamo meno 8 meno 8 significa una palazzina preghiamo immaginate l'acqua che arriva fino al terzo metro perché giustamente saggiamente organizzano tutto avanti questo è stato l'altro ma io quando adesso noi chiediamo l'adeguamento dopo 130 l'abbonifero che non è stato fatto niente le bombe sono sempre quelle vecchie noi ma il sistema è sempre quello invece noi dobbiamo di guardare però ci abbiamo un pericolo siccome dopo 20 anni finalmente il ministero ha nominato un commissario adatta per fare il caos di gestione se va avanti questa cultura ambientalista talebana per cui qualunque canale è naturale non si può trocare più noi la politica la metteva a posto più invece io ho fuggito da sempre facciamo il piano di gestione per la paella di un'idea però i vicoli sui fossi li mettete dopo aver fatto la politica cioè io prima li metto a posto la politica e poi scatto che non mi sapeva guardare perché pure a me piace che fossi problematica mediterranei e compagni ma il forso prima va allargato adeguato alle nuove se c'è se c'è se c'è se c'è l'arriano mi spiega i miei amici ma io sono veramente allargliato con i giornalisti sono tutti qualche del territorio perché hanno dato perché non ci hanno aiutato è importante io sono stato dieci anni a fianco a un giornalista che si chiamava Antonio Ferrelli e ho da loro ho capito l'importanza di una cobertura e qui non c'è resta e quando vedo su tutti i vari media o c'è parlano questi no allora se parlo a lui voglio farla a lui se vogliamo essere così ci vuole la povertezza purtroppo non è di questo punto noi siamo di nuovo un il pancario e un il parco grazie grazie